Ciao, sono Ada, consulente digitale di Digital CDL. In questo video, ti parlerò del tirocinio extracurriculare. Il tirocinio extracurriculare è finalizzato all'inserimento o al reinserimento lavorativo di soggetti in cerca di occupazione e orientato all'arricchimento di conoscenze e all'acquisizione di competenze professionali. In attesa della sottoscrizione del nuovo Accordo Governo-Regioni, la materia dei tirocini extracurriculari è disciplinata dall'Accordo Stato-Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e dalle delibere di recepimento regionali. Il tirocinio extracurriculare si concretizza sulla base di un progetto formativo individuale concordato tra il soggetto promotore, il soggetto ospitante, il tirocinante e definisce gli obiettivi formativi e le modalità di attuazione, ivi compresi i doveri e gli obblighi delle parti. I destinatari di un tirocinio extracurriculare possono essere Soggetti in stato di disoccupazione Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro Lavoratori a rischio disoccupazione Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione Soggetti disabili e svantaggiati I tirocini extracurriculari possono essere promossi dai seguenti soggetti Servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro Istituti di istruzione universitaria, statali e non, abilitati al rilascio di titoli accademici Istituzioni scolastiche, statali e non, che rilascino titoli di studio con valore legale Fondazione di istruzione tecnica superiore Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e o orientamento Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritti negli specifici albi regionali Servizi di inserimento per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ANPAL Il tirocinante non può essere Adibito a ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante Utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo Chiamato a sostituire lavoratori subordinati durante picchi di attività Chiamato a sostituire dipendenti in malattia, maternità o ferie Nella generalità dei casi non inferiore a due mesi e non superiore a 12 mesi, comprensiva di proroghe e rinnovi Per i tirocinanti disabili il limite può essere di 24 mesi Le regioni possono prevedere disposizioni diverse Spetta alla normativa regionale fissare il numero di tirocini attivabile contemporaneamente da parte dell'azienda ospitante in proporzione all'unità produttiva del soggetto ospitante Sono comunque previste delle quote di contingentamento, dalla cui base vanno esclusi gli apprendistati Da 0 a 5 dipendenti, un tirocinante Da 6 a 20 dipendenti, due tirocinanti Da 21 dipendenti, non più del 10% di tirocinanti rispetto ai dipendenti Se ti è piaciuto il video e lo hai trovato interessante, clicca mi piace e iscriviti al canale Grazie per l'attenzione